Francia e Palombizio con le loro segnature avvicinano il Mosciano al primo posto, ora non più lontanissimo ma distante appena quattro lunghezze. Una vittoria pesante quindi, ma sicuramente sofferta, il Montorio si è confermato essere quadrato e ben organizzato in mezzo al campo. D'altronde se nei precedenti 18 incontri ne aveva persi appena tre, di cui uno proprio con i giallorossi, qualcosa vorrà pur dire. Gli episodi non hanno di certo agevolato i montoriesi, a Ciavatti di Pescara non punisce con il calcio di rigore la trattenuta discreta su Val Bonesi ed adotta lo stesso metro di valutazione anche sul contatto ravvicinato tra Canale e Pallitti. Per dirla tutta il Montorio, che stava contenendo bene il quotato avversario, poi si complica la vita da solo. Berardinelli, ammonito due minuti prima, becca un altro giallo per proteste qualche istante più in là. Una leggerezza che costerà carissimo, perché il Bonsciano, sbloccato un match complicato grazie ad un calcio piazzato di Francia, poi non ha problemi ad addomesticare i restanti minuti. Anzi, raddoppia con Palombizio, che corona con il gol una prestazione eccellente. Secondo me il Montorio ha giocato meglio di noi il primo tempo, ha fatto la partita che doveva fare, ci ha giusto tutti gli spazi. Noi siamo stati avvantaggiati dall'espulsione, chiaro, giocare tutta la ripresa in dieci, questo ci ha avvantaggiato. Oggi forse abbiamo riscosto un po' di quel credito con la fortuna che in altre partite ci è stata regata. Il Mosciano si lancia ancora più carico all'inseguimento del San Nicolò. Noi non ci nascondiamo, noi giocheremo partita per partita per cercare di creare gli problemi fino alla fine e se loro dovranno vincere il campionato è chiaro che se la dovranno sudare. Il Montorio esce senza punti, ma ha i mezzi per centrare con largo anticipo l'obiettivo che si è prefissato. Sappiamo che la partita era molto difficile perché il Mosciano è una delle migliori squadre, lo dimostra la classifica. Noi siamo qui tranquilli a fare la nostra partita, fin quando siamo stati in partita il primo tempo abbiamo fatto molto bene. Io dico solo una cosa, sicuramente è da condannare ed è giustissima l'espulsione al mio giocatore perché non ci si aspetta un tipo di comportamento. Però sarei curioso anche di rivedere l'episodio sul calcio di rigore del primo tempo e il gol loro che secondo me nasce da una punizione non vera.